Il personale infermieristico di notte ci deve aiutare anche lei perché già noi fattassero Sì, non piango più Sì, e poi... Come va questo giovanotto? Come si chiama? Giovanni E poi... Ecco Grazie a tutti Ecco, hai seguito Giovanni e adesso sta meglio Bravo Eh? Vero Giovanni? E la mamma poi gli vuole bene tanto Anche il papà E qui anche tutti L'abbiamo colpato tutti insieme La mamma è felice che sta meglio Giovanni Siamo qui a tre mesi Quindi c'è tanta stanchezza C'è tanta... E quindi scendendo qui in questa nuova parte è stata più emozionante diciamo Perché... 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 Se questo non è... Va bene? Grazie Ecco Ecco Posso vuol dire un bel Padre nostro per la mia figlia Bene... Bene... Il tuo regno Il tuo regno Il tuo sangue Gesù Sant'. Santa Maria Fr 집na Madre di Dio Grazie a tutti.